Dal Vangelo secondo Marco E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò e ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guari molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Egli disse loro, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Una buona domenica a tutti. Abbiamo pensato di introdurre questo brano evangelico presentando sullo sfondo una foto molto antica. E' stata scattata all'inizio del secolo scorso, quando iniziavano gli scavi portati avanti dagli archeologi francescani, dal luogo dove sorgeva la città di Cafarnao. Molto importante questa città perché tutta la vita pubblica di Gesù si è svolta attorno a questo lago e la residenza che Gesù ha scelto è stata la città di Cafarnao. Non era la città più importante. Fra quelle che sorgevano attorno a questo lago di Tiberiade o lago di Genezareth, molto più importante era la città di Magdala. Vi viene indicato dove sorgeva questa città sul lungo lago. Aveva 700-800 abitanti. La sua importanza però dipendeva dal fatto che da questa città passava una delle vie più importanti dell'impero romano, che era la via del mare, la via Maris, che congiungeva l'Egitto con la Mesopotamia. Vi viene indicato dove passava questa via del mare. E c'era anche la Doganna a Cafarno, quindi un'importanza economica. E il doganiere lo conosciamo molto bene perché era quel Matteo che poi diventerà un discepolo del maestro. Vi viene indicato anche il limite di questa città. Come si fa a stabilire e a definire dove sorgevano le case al tempo di Gesù? È molto semplice perché c'è il negativo. Fuori da questi confini iniziavano le sepolture, e quindi lì non abitavano gli abitanti di Cafarno. Ecco, lì sorgeva questa città sul lungo lago. Notate anche dove sorgeva il porto, dove c'era il porto, dove attraccavano le barche ed è quello il luogo anche dove è venuta la chiamata dei discepoli mentre stavano riassettando le reti o stavano pescando. Quello è il porto di Cafarno. Ci interessa adesso anche indicare i luoghi che vengono richiamati poi nei Vangeli. Già domenica scorsa noi abbiamo sentito parlare della sinagoga dove è avvenuto quell'episodio della guarigione dell'indemoniato. Ecco dove sorgeva la sinagoga del tempo di Gesù. I resti sono di una sinagoga posteriore, sono del IV secolo, ma sullo stesso luogo sorgeva una sinagoga molto più piccola di quella che è stata poi costruita nel IV secolo. Ma quello era il luogo dove sono accaduti anche altri episodi che vengono richiamati nei Vangeli. Quella è la sinagoga frequentata nel giorno di sabato da Gesù. E ci interessa poi soprattutto sapere dove Gesù risedeva durante questi tre anni della vita pubblica ed era quel quartiere che vi viene indicato, era lì che c'erano le stanze di tutta la famiglia di Pietro e di Andrea. E c'è la stanza proprio dove Gesù dimorava che è diventata poi già nel I secolo il luogo d'incontro della prima comunità cristiana che è nata e sorta in questa città di Cafarno. È lì che celebravano l'Eucaristia i primi discepoli. Teniamo presente quindi questo luogo nel quale si sono svolti tanti episodi della vita di Gesù. Uno di questi episodi è proprio quello che ci viene riferito nel brano evangelico di oggi. Ricordiamo che domenica scorsa noi abbiamo incontrato Gesù nella sinagoga. Lì ha curato quell'indemoniato e che cosa accade dopo quando si conclude la liturgia del sabato. Ci viene raccontato nel brano evangelico di oggi. Usciti dalla sinagoga si recano nella casa di Simone e di Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. Quindi sono stati chiamati questi primi quattro discepoli e il giorno di sabato li troviamo tutti insieme, tutti e quattro, insieme con Gesù che hanno presenziato anche al primo miracolo compiuto da Gesù, la prima guarigione che ci viene raccontata nel Vangelo secondo Marco. Al termine della liturgia escono da quella sinagoga, scendono verso il lago e vanno nella casa di Pietro e di Andrea. E lì che cosa trovano? Trovano che la suocera di Simone era a letto con la febbre. Le guarigioni operate da Gesù sono presentate per riferirci un evento, un episodio della vita del Maestro, ma il modo come gli evangelisti ce li raccontano non sono mai per darci semplicemente delle informazioni. Il modo come ce li presentano sono sempre per darci un messaggio per la nostra vita, per la nostra fede, sono delle catechesi. E quindi ogni dettaglio è molto prezioso perché l'Evangelista vuole comunicarci un messaggio del cambiamento che sta avvenendo nel mondo quando arriva Gesù, quando arriva il suo messaggio, quando arriva la sua luce, c'è una trasformazione. Il mondo non rimane più quello di prima. C'è un dissolversi della tenebra che avvolgeva l'umanità e si afferma quella luce che lui è venuto a portarci dal cielo e c'è una trasformazione radicale della realtà dell'umanità. Vediamo di prendere in considerazione tutti i dettagli di questo racconto che è il più breve dei racconti di miracoli dei Vangeli, ma tutti i dettagli sono significativi. Vediamo di prenderli in considerazione. Ci dice l'Evangelista che la suocera di Pietro era a letto. Che cosa significa? Questa donna è incapace di muoversi, dipende completamente dagli altri, deve essere servita, non riesce a rendersi utile, c'è qualcosa che la blocca, non agisce e quindi non realizza in pienezza quella che è la vita di un uomo perché l'uomo si muove a un progetto, lavora, si impegna, costruisce, fa, lei invece è bloccata. L'umanità in lei è come rattrappita, causata da una malattia, una febbre. Che cosa significa questa febbre? Non viene specificata la malattia che affligge questa donna, sappiamo soltanto che ha una febbre che la tiene in questa condizione. La condizione della suocera di Pietro rappresenta la realtà in cui si trova l'uomo del mondo vecchio, mondo antico, un mondo che non è pienamente umano e tutti noi abbiamo il germe della figliolanza divina, ma come mai questa figliolanza non si sviluppa? È come bloccata dentro di noi. Cosa paralizza? Proviamo a chiedercelo. Cosa paralizza il figlio di Dio che è in noi? Sì, viviamo una realtà, una vita biologicamente magari perfetta, ma il figlio di Dio che è in noi non si sviluppa, non cresce, è come bloccato. Qual è la febbre che gli impedisce di manifestarsi? È importante identificare la malattia che provoca questa situazione, identificare questa febbre. Diciamolo subito, ha un nome, la malattia che ci tiene a letto, che non ci lascia essere pienamente uomini. Pienamente uomini intendo dire pienamente immagini del Padre del Cielo, quindi i Suoi autentici figli. È questo che costituisce l'umano in noi, che ci differenzia dal preumano dal quale veniamo. Qual è questa paralisi, questa febbre? Ha un nome molto, molto semplice. Il ripiegamento su noi stessi, l'egoismo, il pensare al nostro tornaconto, al di risinteressarci degli altri. Questa è la malattia che ci impedisce di lasciar crescere il Figlio di Dio che è in noi. E vedremo che cosa accade quando Gesù guarisce da questa malattia. Nasce un mondo nuovo, nasce un uomo nuovo, completamente diverso da prima. E vediamo anche come Gesù guarisce questa febbre. Teniamo presente quindi che c'è stata una guarigione compiuta da Gesù. Ma l'Evangelista Marco, raccontandoci questo episodio con tutti i dettagli, vuole dirci che l'uomo che non ha ancora incontrato Gesù, che non ha ascoltato la sua parola di vita, si trova già in una situazione di malatto che gli impedisce di vivere in pienezza la sua identità di Figlio di Dio. Vediamo il modo come Gesù guarisce questa malattia. Anzitutto, quando arrivano in casa di Simone e di Andrea e trovano i discepoli, trovano che c'è questa realtà, questa situazione di questa donna che ha letto con la febbre, la prima cosa che fanno parlano di lei a Gesù. Questo significa che il primo passo da fare è quello di prendere coscienza della malattia in cui ci si trova, della condizione non pienamente umana che si sta vivendo. Prendere coscienza della malattia nostra personale o del fratello e la si identifica la malattia quando ci si rende conto che non si costruisce amore. Se io non costruisco amore non sono un uomo, perché ciò che caratterizza l'umano in noi è l'amore. E questa situazione nostra va valutata con Gesù con la sua parola. Devo anzitutto identificare con Gesù ciò che in me o nel fratello impedisce di creare amore, di rendersi disponibili per servire, per generare vita, per essere sorgenti di vita. Cos'è che blocca l'umano? Perché se è bloccata la capacità di amare è bloccata la mia umanizzazione. Non sono un uomo se non amo. Cos'è che la blocca? Ecco, il primo passo allora è proprio questo, parlarne con Gesù, entrare in dialogo con lui, con la sua parola e rendersi conto che questa parola ha un'efficacia prodigiosa che ti umanizza. Se noi non entriamo in dialogo con Gesù, non verifichiamo con lui la nostra realtà, la nostra condizione, noi cercheremo di rabberciare le cose nella nostra vita, ma non ci lasceremo umanizzare dalla sua parola. Vediamo adesso come viene curata questa malattia da Gesù. Lui si accosta alla donna che è malata e qui abbiamo, cominciano ad esserci dei messaggi importanti per noi. Perché? Perché è una condizione disumanizzata noi la verifichiamo continuamente sia in noi stessi che nelle persone che si trovano accanto a noi, nel mondo, la realtà del mondo. Noi la verifichiamo non è pienamente umana, dove ci sono guerre, violenze, soprusi, dove c'è fame, miseria, non possiamo dire che è una situazione umanizzata. Bisogna umanizzare questa realtà. Che cosa fa Gesù? Gesù si accosta. Questa è la realtà del mondo, questa è la realtà dell'umanità. Gesù non si allontana, non ha paura, non si mette a imprecare contro questa realtà, questa condizione, non scantona, si avvicina. E questo è il pericolo che tante volte noi corriamo. Quando vediamo che le cose non van bene, che ci sono delle situazioni che ci urtano, che ci accorgiamo, dovrebbero, non dovrebbero esistere, ci si rassegna, si impreca e si pensa già di aver fatto ciò che si deve fare. No, bisogna prendere atto che questa è la situazione che noi incontriamo, che Gesù ha incontrato e questa realtà va cambiata, va umanizzata, si accosta, perché la vuole cambiare. Anche il discepolo non deve ignorare le febbre che impediscono alle persone di vivere. Non può estraniarsi il discepolo fingere di non vedere, aspettando magari che siano altri ad affrontare i problemi. Chi ha assimilato i pensieri, i sentimenti del Maestro si avvicina, si fa prossimo di chiunque è vittima di situazioni disumane. Quindi, primo passo, accostarsi, affrontare questa realtà di peccato, di miseria. Poi, la solleva prendendola per mano. Questo gesto di Gesù va capito con il verbo greco che viene impiegato, è geirein. Prendere per mano la fa risuscitare. Quella è una situazione di una persona umanamente morta. Chi non è capace di amare non è un uomo. L'umanità in lui è morta, l'umano vero va fatto risuscitare, portato nella vita nuova, va preso per mano e sollevato e la febbre la lascia. Ed ecco l'effetto della guarigione. Gli serviva. Non cominciò a servirli. Il verbo è l'imperfetto e va lasciato così come. Gli serviva. La nuova vita si manifesta proprio nella diaconia, nel servizio, nell'interesse per il fratello, per ciò che posso fare per la sua vita. Si è guariti quando si comincia ad amare. eccolo l'uomo nuovo che nasce quando da una condizione in cui non è capace di amare diventa disponibile a servire i fratelli. Questo è l'uomo nuovo che nasce quando incontra il maestro, quando incontra la sua parola. Il servizio è la caratteristica del vero discepolo, discepolo di colui che è venuto per servire non per essere servito. Noi lo ricordiamo l'ideale dell'uomo greco era il dominatore non il servo. Gesù è venuto per capovolgere questa umanità, è venuto per salvarci da questo ideale disumano che è quello del dominare sull'altro. Ecco la febbre che lui è venuto a curare che è rappresentata proprio da questo gesto che lui compie di far risorgere questa umanità che è bloccata dall'egoismo, dalla volontà di dominare e la salva. Salvare non vuol dire introdurre in paradiso, salvare vuol dire lasciarci, mettere in piedi per servire i fratelli. perché l'alternativa qui è quella fra il servirsi degli altri e il servire il fratello. Quando noi ci serviamo degli altri noi siamo malati con quella febbre che ci mantiene incapaci di muoversi, incapaci di aiutare chi ha bisogno di noi. Quando incontriamo Cristo, ci lasciamo prendere per mano da Lui, dalla Sua parola, noi ci mettiamo in piedi, diventiamo servi e servendo i fratelli noi amiamo e quando amiamo siamo realmente uomini. È interessante anche, ho presentato all'inizio il luogo dove questi episodi, siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, questi episodi sono accaduti e ho indicato anche il luogo dove si trovava la casa dove Gesù è stato ospitato, quella in cui si celebrava celebravano le prime Eucaristie nel giorno del Signore e l'Eucaristia è molto importante perché quando ci siamo rimessi in piedi noi riceviamo la forza proprio accostandoci a questo sacramento, mangiando quel pane, noi assimiliamo Cristo che è servo, che è colui che ha dato inizio a questa umanità nuova che non è quella che si serve dell'altro ma quella che si serve il fratello. Venuta la sera, conclude il nostro brano evangelico, dopo il tramonto del sole portano a Gesù tutti gli ammalati, tutta la città riunita davanti alla porta, la porta della casa di Pietro durante il giorno di sabato sono rimasti nelle loro case perché non ci si poteva muovere, non si potevano portare gli ammalati, ma alla sera di quel giorno portano gli ammalati e si trovano tutti davanti alla porta dove si trova Gesù ed è la casa di Pietro. Questo è un linguaggio simbolico molto significativo per noi perché sono davanti a quella porta, perché sanno che dalla porta di quella casa dove si trova Gesù, dove si trova Pietro, esce una parola che umanizza, che salva, che cura le persone da tutte le loro malattie. L'immagine molto bella è l'umanità intiera che si trova davanti alla porta della comunità ecclesiale perché si aspetta che dalla porta dove c'è quella comunità esca finalmente una parola che crei un mondo di pace, un mondo di amore, un mondo nuovo, non il mondo vecchio che ha già fatto soffrire troppo, che ha già disumanizzato tanto. È ciò che il mondo si aspetta dalla comunità ecclesiale che esca da lei una parola di salvezza, quella parola che usciva proprio dalla casa di Pietro dove Gesù si trovava. Al mattino Gesù si alza quando è ancora buio ed esce di casa si ritira in un luogo deserto per pregare. Inizia la sua giornata Gesù con la preghiera. Preghiera non è, non identifichiamola con il recitare formule. Gesù prega perché vuole sintonizzare tutta la sua vita, tutte le sue scelte sulla volontà del padre, sul disegno che il padre ha e questo è un messaggio molto importante per noi perché perché se vogliamo davvero costruire questo mondo nuovo che è iniziato quando è comparsa la luce nella città di Cafarno con l'arrivo di Gesù e il mondo ha cominciato ad essere trasformato, è nato questo mondo in cui non ci si serve dei fratelli ma si servono i fratelli se vogliamo costruirlo ogni giorno come Gesù dobbiamo anzitutto verificare come possiamo sintonizzare la nostra vita, le nostre scelte su quelle del padre del cielo. Pietro e gli altri non hanno capito la ragione per cui Gesù è uscito da Cafarno, per cui Gesù prega e Gesù dovrà dire a questi discepoli dobbiamo fare le scelte secondo il disegno del padre e il padre vuole che questo messaggio di salvezza non lo blocchiamo nella città di Cafarno ma andiamo davvero a annunciarlo a tutte le comunità di Israele anzitutto e poi a tutte le comunità del mondo e l'invito ad aprire il cuore a questo annuncio della parola una parola che umanizza che ci solleva dal letto nel quale dal letto delle pigrizie e degli egoismi nel quale ci troviamo e ci apre a una vita di amore auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana di amore e una buona Grazie.